Sono entrato nel PC nel 1941, in clandestinità. Poi ho fatto il dirigente della Camera del Lavoro di Caltanissetta, è la mia città. Nel 1947, avevo 23 anni, ho fatto il segretario regionale della CGL dopo Portella della Ginestra. Ho fatto il primo comizio dopo Portella a Portella della Ginestra. E sono stato segretario della CGL, sono stato alla CGL 12 anni. Dopodiché ho fatto il segretario regionale del PC. Nel 1959 sono stato eletto nella direzione nazionale del PC. Segretario? Segretario Togliatti. E io andrei nella segreteria del partito con Togliatti, io sono l'ultimo. Dopo che è morto anche in greo, sono l'ultimo ad essere stato nella segreteria del partito con Togliatti segretario. Segreteria che c'era, c'era Togliatti, Longo, Amentola, Paglietta, Alicata, Berlinguer, io, Natta. La segreteria era... Era una specie di dream team, era... Guarda, c'è Marco emozionato, guarda lì. Marco, se già... io pure, se sono già commossi, posso pure quasi spegnare le gà.